Ciao a tutti, il video è super veloce e volevo dirvi che ho aperto un nuovo canale YouTube, si chiama DecoTime e in questo canale mi occupo di composizioni floreali, decorazioni per la casa, forne sui makeover e vari do-it-yourself project faccio i video in inglese ma sono facilissimi da seguire e vorrei invitarvi a iscrivervi a questo nuovo canale se vi piace questo genere di tutorial ovviamente non andrò a chiudere questo canale, ovviamente continuerò anche a fare tutorial qui sul canale di Polymer Klaus quindi niente, continuandomi a seguire, è un po' difficile fare video spesso con il lavoro e la casa ma io ce la metto tutta e ci sentiamo al prossimo video, ciao!